le preposizioni semplici. Ecco la nostra mensola dell'analisi grammaticale. Andiamo a osservare gli oggetti di cui abbiamo già parlato. All'inizio c'è l'articolo, la parolina piccolina che sta davanti al nome. Gli articoli possono essere determinativi o indeterminativi per quelli che abbiamo studiato finora. E poi c'è il barattolo dei nomi. Ci sono tutte le varie specie, comune, proprio, maschile, femminile, eccetera, eccetera. Abbiamo parlato anche degli aggettivi, gli aggettivi qualificativi e degli aggettivi possessivi. Per quanto riguarda i pronomi, per ora ci siamo occupati dei pronomi personali. Abbiamo parlato dei verbi e l'ultima volta ci eravamo occupate delle congiunzioni, che sono quelle paroline che uniscono tra di loro principalmente delle frasi. E oggi invece parliamo un po' di questi. Queste sono le preposizioni. Le preposizioni sono di due tipi. possono essere semplici o articolate. Oggi impariamo le preposizioni semplici. Vedete che sono paroline, anche queste molto piccole, e servono per unire tra di loro altre parole. Tanto ve le leggo e poi sappiate che bisogna studiare la memoria. Conviene perlomeno studiare la memoria. Di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. Sotto a questo rettangolo bianco e rosso sono nascoste le nostre preposizioni semplici. Ora ci conviene cercare di impararle un pochino a memoria. Tanto le leggiamo assieme. Di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. Adesso le rileggiamo. Mentre le leggo io, leggete le anche voi da casa. Di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. Ancora leggiamole assieme. Le leggo io e voi insieme a me. Di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. Adesso io le ricopro col rettangolo. Adesso provate a dirle prima che io ve le mostri. Cominciamo con la prima. La prima qual è? Provate a dirla. Di, avevate detto giusto? Poi cosa viene? A. Poi cosa viene? Poi. 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 E infine. Quante ne avete indovinate? Ma. Proviamo ancora un po' più velocemente perché se le diciamo di seguito velocemente è più facile. Rileggiamole ancora una volta insieme a me. Di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. Riproviamo con il rettangolo un po' più velocemente di prima. Pronti? Via. Ok. Ultima volta. Forza. Pronti? Via. Ok. Magari vi conviene fare un po' di esercizio di memoria e cercare di ricordarle tutte. Abbiamo detto che la funzione delle preposizioni è di unire due parole. Guardate queste parole. Festa, compleanno. Che preposizione possiamo inserire in mezzo? Festa di compleanno. Usciamo. Il cane. Che preposizione possiamo inserire in mezzo? Usciamo. Con il cane. Vado. Correre. Giardino. Qui dobbiamo inserirne due. Vado. A. Correre. In. Giardino. Correvi. La strada. Le auto. Cosa possiamo inserire? Correvi. Per la strada. Tra le auto. Potevamo mettere anche fra le auto. Poco andrò Mario. Qui bisogna metterne anche una all'inizio. Per cominciare la frase metteremo. Fra poco andrò da Mario. Sei salito su una scala di legno. Allora. Sei salito su una scala di legno. Ora qui dobbiamo inserire delle parole dopo le preposizioni. Provate voi e poi io vi do la soluzione. Siamo partiti di... Di... Quale di queste parole andrà bene subito dopo? Di... Notte. Con... Provate voi. I nonni. Da... Siamo partiti da Genova. In... Siamo partiti in fretta. Per... E siamo partiti per le vacanze. Ecco un altro esempio. Vado a pranzo da... Pensate qual è la parola giusta. Provate a dirla. Vado a pranzo da Alice. Con... Con... Gli... Amici. In... Vado a pranzo in centro. A... Vado a pranzo a Camogli. Fra... Vado a pranzo fra poco.